Vincenzo Nibali, allora si parla di sicurezza, c'è stato anche un momento importante, quello dell'unione tra Federazione e AXI, una collaborazione che inizia per la tutela di tutti i ciclisti professionisti, ma anche amatori, verso traguardi importanti come l'intervento legislativo, ma anche altre iniziative. Ma credo proprio di sì, perché è anche un atto dovuto, sempre molti più utenti della bici si affacciano sulla strada, molti principianti sicuramente hanno un approccio iniziale che non è il massimo e quindi bisogna fare qualcosa di più. È chiaro che i numeri in questi ultimi anni e mezzo sono cresciuti tantissimo e quindi bisogna avere una disponibilità per quanto riguarda anche le piste ciclabili un pochino maggiore, oppure il metro e mezzo di cui abbiamo chiesto tantissimo per la sicurezza stradale, quindi basta anche una semplice linea tratteggiata che indica la carreggiata delle auto e quelle per i ciclisti. Poi è chiaro, purtroppo ci sono sia automobilisti indisciplinati che ciclisti indisciplinati e quindi bisogna fare una giusta cultura in tutte e due l'uso civico della strada. Un milione di praticanti, soltanto 200.000 tesserati, che cosa possiamo dire a chi non ha una tessera e non ha chiaramente una tutela assicurativa? La tessera credo che a volte non è soltanto per i fini agonistici ma potrebbe essere anche una tessera per avere un classico certificato medico dove ti attesta che le condizioni fisiche di ogni utente o chi pedala soltanto lato medica è comunque sano, sta molto bene, può fare anche uno sforzo magari nello scherzo, nel giocare con gli amici e quindi stare bene. Quella assicurativa comunque ti protegge dal caso di qualche piccolo incidente, se così possiamo dire, o magari qualche piccola distrazione che potrebbe capitare comunque sulle strade di tutti i giorni.